Volevo chiederle, qual è il modo migliore per tutelare la propria privacy su internet? Ti do una risposta facile facile. Tutte le volte che tu posti una tua qualunque immagine, frase, espressione, video, immagina sempre di essere nella piazza centrale della tua città, circondato da centinaia, migliaia di persone, diresti esattamente quelle stesse cose, faresti esattamente quei gesti? Se sì, benissimo. Se invece tu pensi che ci siano degli aspetti, come dire, più intimi della tua vita, più riservati, non farlo. E così il linguaggio che usi in rete usa esattamente lo stesso linguaggio che tu useresti davanti al tuo insegnante, davanti ai tuoi compagni di classe, parleresti esattamente con quel linguaggio. Ecco, se tu sei sicuro di poter essere responsabile delle tue cose, fallo pure in rete. Ma se invece ti illudi che andare in rete significa rivolgersi a una platea molto ristretta e circoscritta, hai sbagliato tutto. Quella platea è grande quanto il mondo. Qualunque frase tu dica, teoricamente, può restare in circolazione per tutta la tua vita e anche dopo. E quindi esporti a delle conseguenze che non vorresti. Sono stato chiaro? Grazie. Grazie. Grazie.